Buongiorno a tutti ragazzi, ciao e bentrovati qui su Malati per le Crypto con Fabrizio Ferri Oggi facciamo un po' di disamina dei mercati Proprio per capire perché Shiba Inu sta subendo questi rialzi in questi giorni Partiamo dalla Coinbase Blog Per vedere un po' quelli che saranno i prossimi listati su Coinbase Pro Allora, qua parla chiaro Con eccezione di Singapore e dei residenti su New York Si potranno tradare tranquillamente da domani E Shilitz e Shiba Inu C'è una piccola cosa però sulla quale vorrei farvi un attimo riflettere Ovvero cercare di capire come è evoluta recentemente la storia Quando poi sono stati immessi appunto su Coinbase Nuove Crypto e nuove appunto token o comunque coin Quindi cerchiamo di fare subito un bel parallelismo fra Shiba Inu e Dogecoin Che sono un po' le contendenti al trono di cane delle crypto E praticamente vediamoci un attimo il grafico di Dogecoin Listato su Coinbase il giorno 3 giugno E ha subito ovviamente una bella pompata fino al 3 giugno Quindi fino al 2 siamo stati belli alti Dopo ribassi fortissimi noti a tutti E poi una volta listato è ripartito il trend a ribasso Quindi che siano notizie per scatenare volatilità E che siano notizie che comunque non dimostrino la vera forza Della coin o del token in questione Mi sembra abbastanza ovvio Vediamoci adesso il grafico di Shiba Inu Come al solito ragazzi non sono consigli finanziari È comunque però un'analisi molto dettagliata di quello che è il mercato Shiba Inu che in questi ultimi 2-3 giorni ha veramente iper performato Sta continuando a salire Quello che è successo a Dogecoin non vuol dire che si Non significa che si ripeterà per forza anche su Shiba Inu Però facciamo attenzione a non stappare subito lo champagne Che comunque in questi ultimi 3 giorni Diciamo 4 dal minimo Abbiamo assistito ad un 79% di performance positiva Con uno storno importante per prese di beneficio del 15% Quindi ci siamo come da un punto di vista prettamente analitico e tecnico su Shiba Inu È un mercato assolutamente interessante per quello che riguarda questo breve trend Però l'incertezza di oggi si sta dimostrando molto forte Ovviamente aspettiamoci eventuali storni Perché comunque se è successo in passato Se un 100% comunque è una bella performance Sicuramente anche uno storno sarà probabile Questo che significa che non è detto che Shiba Inu svolgerà la stessa Seguenza di fatti come è successo per Dogecoin e tante altre crypto Però stiamo attenti Comunque visto il valore Visto il potenziale a livello di community di questa crypto Io comunque un occhio ce lo butto sempre E do sempre la giusta attenzione a questa Questo token canino che poi non so neanche come definito Perché poi ognuno ha il suo modo di chiamarlo Personalmente io vado avanti a definire la crypto Almeno siamo tutti quanti d'accordo Perché comunque si parla di criptovalute Allora in questi giorni tantissimi mi hanno commentato i video su Shiba Inu Stiamo dicendo sta partendo lo Shiba Swap Stiamo per vedere ecco nuovi rilanci Però poi alla fine è sempre la speculazione che fa il prezzo E quindi cerchiamo di essere il più possibile Attenti a non forzare la mano Abbiamo già visto in precedenza Belle candele verdi Che però non hanno fatto sì Che si invertisse il trend Questa è la prima volta che si vede una reale Indicazione di possibile inversione Anche se siamo proprio all'inizio del percorso Quindi aspettiamo Personalmente io aspetterò almeno un bel massimo Minimo decrescente Per far sì di leggere un trend positivo reale E quindi senza forzare la mano Poi ognuno farà le scelte che preferisce Allora voglio mostrarti inoltre le altre crypto Che poi vedremo nel dettaglio in video specifici Comunque le altre crypto che vedremo su Coinbase Pro Sono appunto Chiliz e Keep Network Che ho scoperto proprio stamattina Non sapevo neanche esistesse E l'ho vista quotata su Unishwap V2 Su Kraken Quindi ecco una crypto che non so cosa faccia Però ecco sono quotate anche su Coinbase Pro Da domani Poi anche Polkadot sarà listata O meglio già è presente però non è tradabile E poi ci sono tutte queste altre che già conosciamo E sono presenti e tradabili Comunque un mercato di base che è ancora ribassista Un mercato generale Quindi facciamo attenzione a non sentirci fenomeni Dell'ultimo minuto Quindi massima umiltà e massimi accorgimenti Con sites ridotte per non farci troppo male Vista l'altissima volatilità delle ultime ore Insomma ragazzi Per Shiba Inu è tutto Per qualsiasi informazione o dubbio Scriveteci nei commenti E mi raccomando iscriviti al canale E lascia sul pollicione Se il video ti è stato utile e ti è piaciuto Ciao e buona giornata Ciao e buona giornata